Buon pomeriggio amici lontani e vicini, abbiamo finalmente il piacere di avere come nostro ospite al notiziario delle Olie uno dei più grandi portieri italiani, lo diciamo chiaramente a prescindere dal fatto che ha militato con l'Inter, una Francesco Toldo, ve lo presento anche se non ha bisogno di presentazione perché già da qualche giorno abbiamo messo due foto che riguardano la sua permanenza vacanziera alle Olie, proprio oggi a conferma di quello che dicevo è arrivato un'email dall'Australia, da un euliano di Malfa, Marcello D'Amico che fra l'altro è un po' un nostro corrispondente, che vedendo le foto con Aldo Unico e la foto dell'altro giorno, e poi la foto che abbiamo fatto insieme l'altro giorno mi ha mandato quattro righe ma ritengo abbastanza significative quindi le volevo un po' riportare, ha scritto intanto si trovava al centro-sud di Oliello quando ci fu quella famosissima partita con l'Olanda, dove hai parato tre rigori, sono passati 16 anni, a giugno ho visto 2000 e lui ha detto queste testuali parole, per me Francesco Toldo negli ultimi 30 anni è stato il secondo miglior portiere italiano. Sì io intanto ringrazio e per me è un piacere veramente soggiornare qui alle Olie perché è il terzo anno consecutivo e vengo oltre che per il paesaggio ovvio perché la gente è proprio gente ospitale, gente perbene e sento l'affetto che mi dimostrano, ovviamente la parte nerazzurra lo dimostra di più, le altre parti, quella bianconera e quella milanista un filino di meno ma quello fa parte del gioco e quindi l'affetto lo sento forte soprattutto perché questi tifosi e questa gente che di calcio ci vive e tifa ha la sfortuna di essere lontana e quindi vive diversamente il personaggio e una volta che ce l'ha a tiro sono anche veramente tanto educate, le persone tanto discrete che non ti fanno neanche sentire troppo, non sono neanche troppo invadenti. In Australia, in Australia io ho visto che ci sono moltissimi migranti. Siamo alla quarta generazione, quasi 40 mila euliani fra prima, seconda, terza e quarta generazione, incredibile. Sì, sì e quindi visto che in questo periodo della mia vita mi occupo anche di Inter Forever che sarebbero le leggende dell'Inter, in teoria dovremo andare, avremo un quasi accordo con l'Australia per fare una partita contro il Manchester United The Legends lì a Sydney e nel caso ve lo faremo sapere. Sì, così lo pubblicizziamo. Ecco, ritornando all'amico euliano Auscioliano D'Amico, lui ha detto che è stato il secondo miglior portiere degli ultimi 30 anni, è il primo secondo te perché non l'ha specificato? Ah no, no, ma guarda, allora io quello che penso è che quando arrivi nazionale devi essere per forza, devi avere le qualità e il talento per rimanerci e poi Gigi Buffon è un gran portiere, è il numero uno attualmente e lo sta dimostrando. Io ho qualche anno in più di lui e forse dai capelli bianchi si vede ho 46 anni e 45-46 quindi io ho fatto il mio e mi sono divertito di mio. Ho avuto la possibilità di esprimermi anche in nazionale, quella partita che ricordano tutti i tifosi, però non ho nessun rimpianto della mia carriera sportiva perché ho diviso tra Fiorentina, Inter e nazionale appunto e sono veramente felice di aver fatto quello che ho fatto. Poi in nazionale tra Zenga, Peruzzi, Pagliuca e andando indietro c'era Dino Zoff, c'è stato anche Giovanni Galli, altri grandi portieri che hanno fatto la storia dell'Italia perché l'Italia è tuttora secondo me ricca, solo che Gigi sta facendo un po' di ombra perché via lui poi emergeranno altri talenti, talenti che ci sono già nel campionato italiano. Che può essere l'eredeo? Ma sai se poi fai un nome poi crei anche scontento oppure io credo che Marchetti, Sirigu, Perin e altri anche giovani che stanno crescendo tipo Meret abbiano anche le qualità per arrivare in nazionale a grandi club. Perin può essere l'uomo giusto per l'Inter se Andanovic una volta per tutte si decide a voler fare la Champions League? Ma di queste cose io credo che sia giusto che ne parli il direttore sportivo che ha il ruolo fondamentale di fare la squadra insieme all'allenatore e di comprare e di vendere quindi se dico una cosa poi ti fai il titolo quindi evito, evito, il direttore sportivo lo sa. E il numero uno al mondo invece chi è secondo te? Beh attualmente con l'Europeo si sono visti dei grandi portieri, dei grandi portieri che quello che ha giocato nel Chelsea poi quello del Bayern, adesso il nome mi sfugge, della Germania ma ce ne sono, ce ne sono anche quello che giocava nell'Atletico di Madrid che ha fatto la finale che i nomi adesso mi sfuggono perché mi prendete in vacanza. A proposito ecco di europei è stato l'Europeo delle sorprese? Sì fino a un certo punto perché ai quarti di finale sono arrivate delle squadre che non ci immaginavamo e mi sarei aspettato un filino di risultato in più dall'Italia però pazienza perché la lotteria dei rigori si sa come va. Però l'Italia voglio dire è stata in un certo con un modo una sorpresa perché all'inizio scommettevi un euro sulla squadra di Conte oppure conoscendo Conte sì. Tutti l'hanno criticata però hanno fatto vedere veramente che il gioco c'era e è fatto anche di ragazzi giovani e promettenti tanto che si stanno sistemando un pochino tutti. In Cina? In Cina? Eh anche in Cina perché adesso il campionato non è più in Europa e per quello c'era un gioco, vedevi che c'era un programma che è stato anche abbastanza rispettato peccato che non ce l'abbiamo fatta con i rigori contro la Germania. Fa rabbia quei due rigori tirati in quel modo? Eh sì sì anche se il giudizio è sempre dopo perché ognuno rispecchia quello che è in quel momento quindi chi se la sentiva di tirarlo in un modo, chi voleva fare lo scavino e non l'ha fatto però è sempre un terno all'otto. Non c'è dubbio. Ecco veniamo al campionato, la Juventus è sempre più la squadra da battere addirittura se ingaggia Iguain si può dire che è finita già anzitempo, no? Ma io credo che sia vantaggiata perché l'Inter e il Milan sono un filino da risistemare e sono ancora con lavoro in corso. Però non c'è tutto quel gap che penso perché l'Inter nella prima parte ha fatto un gran campionato poi si è improvvisamente bloccata e lì si è accesa la Juventus e alla fine era risultato imprendibile. Ma se l'Inter dovesse trovare una chiave di accesso per i giocatori che ha, ha degli ottimi giocatori. E' vero che si deve sempre migliorare quindi anche a livello di rosa e di acquisto di giocatori. Ma se la Juve vende Pogba e ingaggia Iguain si rafforza oppure che pensi? Ma io credo che queste grandi società stiano veramente facendo dei programmi e quando vendono un grande campione è perché hanno già visto oltre. Quindi solo a migliorare vanno. L'Inter in mano ha i cinesi e sembra dalle voci che arrivano che c'è una certa contrapposizione fra la società e l'allenatore. Mancini vorrebbe puntare su giocatori di esperienza, Vedi Tourette, invece loro puntano su giovani di valore che comunque ancora non sono arrivati. Secondo me dovrebbero chiarirsi un attimino, una volta per tutte e dare quella tranquillità ai tifosi che meritano. Io penso che la società stia facendo, stia sondando bene il mercato perché ogni volta che ti avvicini a un giocatore esplode il prezzo. Soprattutto da quando sanno che c'è una certa ricchezza alle spalle. Quindi i cinesi sono anche persone che prima di buttarsi totalmente devono un attimino capire come funziona. E credo che sia giusto perché altrimenti rischi di fare la fotocopia del Chelsea di Abramovic che scialacqua all'inizio per poi tirarsi indietro. Quindi stanno facendo un passo per volta. Io penso che debbono fare un programma più che comprare grandi giocatori. Un programma di gioco, un programma che punta sui giovani perché secondo me i giovani è l'arma per il futuro. Puoi anche dichiarare che stai costruendo un'ottima squadra in visione di uno o due anni. Mancini forse è un po' arrabbiato perché non ha avuto carta libera come l'aveva avuta per esempio lo scorso anno contro Iri e gli ha fatto la squadra nuova. Ma io preferirei non entrare nell'argomento perché io sono in vacanze quindi non so se tramite anche giornali o anche persone che conosco i discorsi direttamente. Quindi preferisco lasciare ad altri il giudizio. Ma la squadra di cosa ha bisogno? Alla luce del campionato ottimo che aveva fatto nella prima parte e poi invece chissà cosa è successo, insomma è andata come è andata. Ma io credo che con questi cambiamenti che ci sono stati tra prima la società con il presidente Moratti poi l'accessione all'Indonesiano Toir poi di nuovo l'accessione ai cinesi che ci sia bisogno un attimino di chiarirsi all'interno di questa... Il 27 forse sarà l'occasione buona. Sì, però con questo non è che debbano stravolgere una squadra perché i giocatori si sentono anche sbiliti un attimino dalle continue richieste di acquisti di altri giocatori. I giocatori che l'Inter ha sono ottimi giocatori. C'è il problema ai cardi però? Sono problemi relativi quelli. Ogni squadra ha volerne quei tipi di problemi. Il problema è quando non hai questi problemi. E l'ultima cosa, questa bellissima esperienza che stai portando avanti adesso come ambasciatore con il campus, con i bambini di tutto il mondo. Insomma, è una cosa bellissima. In realtà, quell'esperienza l'ho fatta dal 2010 fino al 2012-2013 come ambasciatore di Inter Campus che è il progetto sociale prevalente che ha l'Inter. Poi però mi sono dedicato a Inter Forever che sarebbe la squadra delle leggende dell'Inter che attualmente sono nomi molto conosciuti e ancora nella mente dei grandi tifosi dell'Inter. Chiudiamo con uno sguardo a stecca Juventino-Doc di Lipari cosa diciamo? Che ancora per qualche anno non c'è niente da fare con lo scudetto? Noi ovviamente da interisti ci auguriamo di no però lui già, guarda, sorride è sicuro di se stesso. Io invece ogni primo di agosto ogni inizio stagione sono fiducioso perché l'Inter merita veramente di accompagnare le altre grandi squadre fino alla fine e cercare con uno sprint finale di vincere lo scudetto perché non vedo tutta questa distanza con la Juventus poi qualche acquisto ci sarà e quindi non sono più di tanto preoccupato. Hai cambiato tanti allenatori ma Mourinho resta Mourinho? Certo, sì, certo. È l'allenatore migliore che io abbia avuto ne ho cambiati tanti quelli degli anni 90 e fino al 2010 i più grandi li ho avuti però Mourinho ha quel qualcosa in più che non dà sotto da togliere agli altri che ha in più lui perché è una persona che ti entra dentro e capisce le tue emozioni e di conseguenza è il giocatore dà anima e corpo per l'allenatore questo ci vorrebbe. Bene, abbiamo completato ringraziamo Francesco Toldo che ci ha messo... prego? Saluto a Pippo Certo, salutiamo anche Don Pippo Pippo è lo chef preferito di tutto il pontile Pignataro è Pippo è il numero uno Pippo è un personaggio guardalo, guardalo ma anche Stecca è Stecca sì solo che Stecca l'hanno ingessato Stecca chi vince allora continua a vincere la Juve Francesco è diventato un liparroto dopo dobbiamo parlare col sindaco lo facciamo diventare cittadino onorario delle Isole Olie ambasciatore nel mondo anche delle Olie ok? ok molto bene e allora lo ringraziamo ancora una volta che ha dedicato un po' del suo tempo vacanziero al notiziario delle Olie grazie ancora grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliaro e grazie anche a voi arrivederci buon pomeriggio amici lontani e vicini e dopo Francesco Toldo Antonio Pellegrino in arte Stecca e il comandante biondo di questo yacht che insomma si commenta da solo e allora Stecca per Toldo non c'è partita il prossimo anno? ma diciamo che Toldo ormai è diventato un eoliano doc ma la Juve sta facendo una campagna acquisti di altissima qualità già ti risulta che Iguain è ingaggiato? ma speriamo di sì speriamo di sì Andrea Agnelli l'hai sentito? no 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 ancora no quindi notizie certe non ne abbiamo ancora su Iguain? abbiamo parlato con il direttore della stampa ancora ci ha detto che ancora di ufficiale non ce n'è e Marcello in arrivo? sì arriva il giorno 24 e qui siamo nel tuo regno in questo porticciolo con un mare di imbarcazioni veramente da sogno ma sono delle barche bellissime che vengono qua e noi cerchiamo di fare il nostro meglio con tutta la GIP di Porto Pignataro che siamo dei ragazzi stupendi che lavoriamo e cerchiamo di migliorare ancora sempre di più e i risultati si vedono perché c'è una bella presenza di barche quest'anno è una bella stagione si può dire speriamo di sì anche perché la gente vuole stare tranquilla non vuole andare in paese che c'è sempre delle guerre del casino speriamo che ne vengono molte anche qua e a proposito di belle barche il comandante Biondo che insomma pilota questo mega yacht che caratteristiche ha questa bella barca comandante? è una bella barca si presta diciamo più che al charter insomma anche armatoriale una barca però diciamo che si presta benissimo ecco su tutti i punti di vista anche a livello di comodità interni insomma su tutto e lei immagino ha girato con questo yacht i porti italiani insomma almeno quelli più importanti la situazione portuale delle Oli dal suo punto di vista oddio levando qua il Pignataro diciamo che è un porto che si diciamo ospita a parte più barche ma comunque ha una sicurezza rispetto a tutti gli altri porti diciamo abbastanza notevole molto più sicuro specie con questo tempo che c'è stato fino adesso gli altri insomma chiamiamoli porti ma sono approdi più che e la diciamo la particolarità del Pignataro è proprio lì che l'ospitalità e la professionalità che hanno qua è chiaro che fa la differenza diciamo rispetto agli altri bene abbiamo completato ringraziamo Antonio Pellegrino in arte steak e il comandante Biondo il nome come Paolo 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 Biondo grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliaro e anche a Don Pippo sempre presente arrivederci saluto a tutti saluto